Così come in un problema matematico o in una teoria esposta, quando le premesse sono sbagliate tutto il rimanente purtroppo non potrà che catastroficamente essere sbagliato. Quindi ci sono delle premesse che riguardano il Signore, che io credo necessitano di essere rimarcate anche se apparentemente scontate, poi così tanto scontate tante volte non lo sono. Dio è buono, Dio è per l'uomo, Dio non è contro l'uomo. Ecco questa premessa che pur può apparire diciamo semplice o scontata, talvolta non viene compresa. La cosa straordinaria, negativamente parlando, che non viene compresa proprio da tanti che si dicono religiosi, da tanti che non hanno un'immagine reale, esatta del Padre, così come ce l'ha presentata Gesù Cristo, che è il verbo eterno di Dio, è la parola fattasi carne, che è venuto, come leggiamo in Giovanni 1, verso 18, a spiegarci il Padre, poiché il Dio nessuno l'ha mai veduto, ma l'unigenito figliuolo che è nel seno del Padre, e lì parla di un presente continuativo perché è unito al Padre da ogni eternità e per sempre. Ecco che Lui, che è la parola del Padre, ce l'ha rivelato. Quindi Dio è per l'uomo. Se questa premessa è nei nostri cuori, se questa premessa è rimarcata a fuoco nelle nostre anime, allora sapendo che malgrado quello che succede attorno a noi, vicino a noi, a noi stessi, noi sappiamo che Dio è per noi, Dio è dalla nostra parte, Dio fa il tifo per noi, potremmo dire. Dio è dalla nostra parte, Dio ci ha amati ancora prima che noi conoscessimo Lui, che noi ci volgessimo a Lui, anzi è stato Lui stesso ad attirare il nostro sguardo, il nostro cuore, la nostra vita a Lui. E ci ha dimostrato questo Suo grande amore mandandoci il Suo figliuolo. Dio ha talmente amato il mondo che ha dato il Suo unico Figlio a morire in croce per noi. Dio è per noi. E naturalmente noi di fronte a questo amore vogliamo ricambiare, vogliamo essere dalla Sua parte. Risponderemo accettando il Suo amore, camminando nel Suo amore, vivendo nella Sua grazia. Questo è il minimo che possiamo fare per così grande amore. Questo è il ravvedimento, rivedere le nostre vie, le nostre vie umane, le nostre vie sbagliate per affidare la nostra vita al Signore.